Questa mattina è stata data la notizia che Ennio Morricone, uno dei più importanti musicisti compositori del cinema, è morto all'età di 91 anni per una caduta nella sua casa. I funerali saranno svolti privatamente. Ricordiamo Ennio per alcune delle sue collaborazioni più importanti con registi come Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Quentin Tarantino e tanti altri. E soprattutto per aver scritto alcune delle canzoni pop italiane più importanti dell'ultimo secolo. Ha anche ricevuto un Oscar per la sua carriera con la colonna sonora di Hateful Eight, diretto da Quentin Tarantino. Alcune delle sue colonne sonore più famose sono da film come Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull'oceano, diretto da Giuseppe Tornatore con protagonista Tim Roth, The Mission e tantissimi altri. Come tutti i film western di Sergio Leone. Ci ha lasciato con un'eredità musicale enorme che non verrà dimenticata.